Ora, questa fase si è esaurita in Italia da una decina d'anni, ma oggi siamo a battezzare nell'ambito di questa innovazione l'avvio di una seconda fase, quindi del contatore di seconda generazione, del contatore intelligente di seconda generazione, che sarà, io credo, capace di quella flessibilità che sia per chi gestisce la rete, ma anche per le famiglie, le imprese che lo utilizzano, di essere più flessibile, più aperto, più adatto alle nuove esigenze e alle nuove tecnologie.